Marta, otto riflessioni sulla scrittura, seconda puntata, contesto e immaginario. Cominciamo bene, ho appena sentito la puntata precedente e ho sentito che Alessandro vi salutava dandovi appuntamento a questa puntata, però no, questa puntata che è quella sul contesto è mia, l'abbiamo deciso mesi e mesi fa preparando la scaletta. Capisco che sono un po' in ritardo con la consegna, ma la pandemia, la neve, i vaccini, la crisi di governo... Qualche anno fa noi di Matearium abbiamo casualmente scoperto la storia di Marta, mistica ribelle del Seicento. In questo podcast ti raccontiamo come la sua vicenda storica si è trasformata in una riflessione sulla scrittura e sulla drammaturgia ricca di infiniti spunti. Mi ero dimenticata della sigla, però devo dire che a parte la pratica che evidentemente manca, a me questa cosa del podcast non dispiace mica, a patto che non mi facciate risentire la mia voce, e sarebbe ancora meglio se qualcuno parlasse al posto mio. Se poi non dovessi nemmeno scrivere i testi allora sì che sarebbe davvero perfetto. Il discorso che facevo prima della sigla ormai non ha più senso, però ve lo spiego lo stesso. Allora dovevo fare questo lungo racconto su tutti gli impegni umanitari che mi hanno tenuta lontana dalla stesura della puntata. Così poi dopo la sigla arrivavo qui e cominciavo con il contesto conta. E vi raccontavo che in realtà l'ho scritta in ritardo solo perché ero molto molto svogliata. Con questa rivelazione in un attimo avrei completamente cambiato lo scenario che vi eravate immaginati ascoltando la mia voce all'inizio e così vi avrei dimostrato proprio sul campo che il contesto conta. Adesso che ci penso era davvero un bel inizio e mi dispiace quasi. Prima puntata insieme e siamo già arrivati a due grandi verità. Il contesto conta e non avevo tanta voglia di scrivere questa puntata, ma le grandi verità vanno interpretate correttamente e cioè contestualizzate. Non avevo tanta voglia di scrivere questa puntata perché dovevo finire di guardare The Mandalorian prima che mi scadesse l'abbonamento a Disney+. The Mandalorian è la prima serie dell'universo Star Wars escludendo quelle d'animazione. Guerre stellari, spade laser, George Lucas, droidi, pipinotti, avete presente tutti no? Da subito è stata un grande successo di pubblico e di critica, il che considerando quanto sono puntigliosi i fan di Star Wars significa che il successo è stato immenso. Non mi metto a raccontarvi la storia o i personaggi e non solo perché non voglio perdervi proprio adesso che vi ho appena conosciuti, ma anche perché in realtà non ne ho bisogno per spiegarvi qual è il suo punto di forza. La serie funziona perché racconta storie nuove, con personaggi nuovi, in piena coerenza però con l'universo Star Wars che conosciamo. Questo vuol dire che funziona perché rispetta l'immaginario di appartenenza. Lo sentite già, vero? C'è qualcosa sotto. È tutto vero e infatti adesso ci stiamo per spostare alla parte seria di questa puntata. Trattando la vicenda di Marta Fiascaris, un primo passo importante è studiare il suo contesto storico. Nata nel 1610 a San Daniele del Friuli, vive in un periodo segnato da miseria, calamità e morte. Questo è uno dei motivi che spiegano la sua ascesa. La necessità di conforto, specialmente da parte di donne e di madri, trova risposta nel messaggio di affetto e rassicurazione che Marta propone. Immaginate il sollievo di una madre che ha assistito alla morte del figlio neonato, nell'ascoltare Marta assicurarle che suo figlio, nonostante non abbia ricevuto battesimo, nel giorno del giudizio potrà raggiungere la beatitudine. Spostandoci ai piani del potere, l'attuale territorio regionale è il teso scenario della contesa tra due potenze, la Repubblica di Venezia e l'impero austriaco. In questo contesto San Daniele rappresenta una rara isola di autonomia, essendo riconosciuta da Venezia come feudo patriarcale. Questi elementi storici non servono soltanto a creare un contorno, uno sfondo alla storia che stiamo raccontando, ma ne sono diretti protagonisti, perché la denuncia fatale che porta al secondo processo arriva proprio dall'imperiale Trieste, dove Marta aveva trovato le sue più devote fedeli. L'irritato richiamo all'ordine da parte della Chiesa di Roma è a sua volta legato al periodo storico della controriforma, che ha dirette conseguenze sulla gestione delle anomalie religiose come questa. Questo sfortunato incrocio tra poteriggia e intenzione avviene a un soffio dalla fondazione dell'ordine martista e decreta la definitiva caduta della nostra mancata santa. Ci sono bastati tre elementi storici per creare un contesto sufficiente a spiegare le dinamiche principali. Ricreare il contesto è un'operazione impegnativa, ma pratica, concreta. Ci manca però ancora un tassello, che ha invece a che fare con un volo di immaginazione. Vi faccio un esempio. Quando io, persona del ventunesimo secolo che non ha ricevuto no, scherzo. Insomma, quando ho letto che Marta si proclamava quarta persona della Trinità, ho pensato... E in curiosità sono andata avanti nella lettura delle fonti, senza sentire la necessità di chiamare il numero verde del santo uffizio. Il divario culturale tra me, noi e Marta e i suoi contemporanei è così grande da cambiare drasticamente la percezione della gravità di una simile affermazione. Ci possiamo avvicinare solo razionalmente, e cioè contestualizzando l'affermazione nella sua epoca, in uno sforzo di medesimazione. Prima, ho parlato di mancata santa. Anche il concetto di santità va contestualizzato, perché nei secoli ha avuto caratterizzazioni diverse. L'intervento di Giuliana Ancona, storica che si occupa dell'inquisizione romana in Friuli e nella Repubblica di Venezia, mi ha chiarito che cosa significasse essere sante all'epoca di Marta. All'epoca di Marta, in Italia, soprattutto in Friuli, ci fu qualche donna che diceva appunto che aveva delle visioni, che aveva dei rapporti con Dio, con Gesù, però alla fine tutte queste non avevano, diciamo, nella forza, nella volontà di diventare delle sante. Ce ne erano altre invece che pur prendendo spunto dalle sante medievali, come Santa Brigida di Svezia, o Santa Chiara anche, Santa Chiara d'Astisi, o Santa Caterina d'Astina, venivano definite delle donne carismatiche e queste avevano, perlomeno così facevano supporre, facevano vedere, di avere delle doti di profizie. Gli avevano preso delle corti, diciamo, delle corti immobiliari in giro per l'Italia, queste però avevano obbedito pienamente ai dettami della Chiesa, per cui furono venerate come beate, fuori che sono considerate tuttora dalla Chiesa delle Beate, che è il passo precedente alla santità. Però tutte queste, in qualche modo, erano rimaste all'interno della Chiesa, per cui il passo è proprio il fatto di essere obbediente alla Chiesa, che Marta non lo fa, mentre tutte le altre, quelle che sono diventate famose e poi sono diventate Beate, qualcuna anche santa, tipo Santa Teresa d'Avila, è proprio il fatto di rientrare negli ordini della Chiesa, nei comandamenti e nei comandi della Chiesa. Per cui con Marta non vedo nessunissimo tipo di, diciamo, di relazione fra lei e tutte le altre Beate o santo e quello che vuoi. Se questa fosse una lezione di scrittura, vi direi che per muovere bene un personaggio, sia reale che inventato, non basta conoscere a fondo il suo contesto di appartenenza, ma è fondamentale indagare anche il suo immaginario, ovvero il suo orizzonte di pensiero. Ricostruire le sue influenze, i suoi riferimenti e contemporaneamente eliminare i nostri. Un esercizio impossibile, ma irrinunciabile, specialmente nel caso di personaggi storici realmente esistiti. Per fortuna, però, questa non è una lezione di scrittura. Il blocco serio è finito, andate in pace. Io anche ho finito e adesso sento proprio il bisogno di una pausetta. La prossima puntata si intitola Sguardi. No, Alessandro ha modificato il titolo nell'ultima delle 200 revisioni che ha fatto. Mai nulla di radicale, lo fa soltanto per ribadire il concetto che lui ha già finito da un pezzo e io invece sono ancora qui a chiudere la prima. La prossima puntata si intitola Sapervedere. Buon ascolto. Marta è un podcast a cura di Matearium e Sarvi di scena. Testi e voci di Alessandro Di Paoli e Stefania Ursella. Commenti musicali estratti da Marta. Concerto per voce Extraordinarius. Composizioni di Matteo Sarcinelli interpretate da Laura Giavone e Davide Ceccato. Progetto realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Saltarello. Grazie a tutti.